La discarica abusiva è stata recintata pochi giorni fa. Basacchetti e rifiuti continuano ad accumularsi all'esterno della rete. Il 9 marzo scorso le nostre telecamere avevano raccontato la presenza della discarica, cioè da aperto, qui alle spalle del polo universitario di Sesto San Giovanni. Dopo due mesi la situazione sembra essere cambiata. La zona è stata completamente recintata, ma non è stata ripulita, perché dietro alla recinzione continuano ad esserci rifiuti di ogni genere, pezzi di arredamento, bottiglie, scarpe. E questa soluzione non scoraggia quanti continuano a lasciare all'esterno della recinzione sacchetti e rifiuti di ogni genere. L'unica cosa che il Comune di Sesto ha potuto fare è ordinare agli operatori del Core, il servizio di nettezza urbana, la rimozione dei rifiuti più ingombranti. Infatti il Comune non può gestire da solo la pulizia dell'area perché privata, dato che la discarica abusiva sorge su un terreno di proprietà del gruppo Pasini e di altre due imprese. Quest'area, negli anni 90, fu al centro di un progetto di riqualificazione urbana completato solo in parte, a causa, tra le altre cose, del fallimento del gruppo Pasini, società che è attualmente in liquidazione. A gestire la procedura sono tre diversi curatori fallimentari. A uno di questi il Comune di Sesto ha imposto la chiusura dell'area, una misura che al momento però non ha risolto la situazione.